Tussi Quevales, ha vinto il danzatore Salah Nam Fungadili La finale di Tussi Quevales del 9 dicembre è stata vinta dal ballerino francese Salah. Ieri, 9 dicembre 2017, si è conclusa la quarta edizione di Tussi Quevales, condotto dalla confermata Cancelletto Belen Rodriguez dalla New Entry Martino Castrogiovanni. . Anche questa stagione dello show di Canale 5 ha fatto segnare ottimi dati d'ascolto, affermandosi come una delle trasmissioni più seguite del sabato sera. Probabilmente in queste ore vi starete chiedendo chi è stato il trionfatore di quest'edizione. . Ricordiamo che il vincitore porta a casa un premio di 100 mila euro in gettoni d'oro, e un viaggio in crociera di circa 100 giorni che lo porterà in giro per il mondo. . Il vincitore di Tussi Quevales 2017 è il danzatore francese Salah. Il vincitore dell'edizione 2017 di Tussi Quevales è stato decretato dal pubblico da casa tramite il televoto. . . In finale sono approdati dei concorrenti bravi e talentuosi, giunti fino all'ultima puntata grazie ai voti positivi ottenuti, nel corso delle settimane, dai giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teuma Mukari. . 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